Fossa Cesia che giocherà da sinistra verso da destra verso sinistra dei vostri teleschermi ovviamente la risposta del Sulmona dall'altra parte in maglia bianco rossa Fossa Cesia in completo verde con calzettoni bianchi vi dicevamo delle formazioni aspettiamo il fischio da parte del direttore di gara che è Alessandro Di Stefano di Teramo terna arbitrale completamente della sezione Teramana Stefano Coccagna è il primo assistente mentre Felice Mazzocchetti sempre della stessa sezione è l'altro il direttore di gara pronto al fischio d'inizio c'è stata un'iniziativa da parte di Pau che si è fatto a mezzo campo è andato a egli direttamente al tiro occasione per il numero 7 che comunque è sfilata fuori Attenzione 3 contro 3 poi va al tiro lo stesso di Rocco Fanti in difficoltà su questo tiro Nel frattempo Fossa Cesia in un'azione un po' confusa è andata vicino al vantaggio con il suo numero dietri 10 giovanelli Safon ancora Safon lato corte va direttamente al traversone carosone il destro la palla fuori Si avventano come Falchi sul pallone attenzione perché questo è un tocco un po' troppo corto però si fa male Giovannelli ma continua l'azione di Rocco ancora di Rocco centralmente possibilità per la formazione del Fossa Cesia che va in rete Pau quindi gol da parte del Fossa Cesia al quattordicesima recupero di Melchionna poi l'apertura su Pau E' lui che può riuscire a fare la differenza tra le linee poi Vasio Il tiro è il pallone che si infila sotto il 7 gol assolutamente bello il 2 a 0 da parte della formazione del Fossa Cesia con Carraro Safon il destro pallone molto bene il colpo di testa proprio da parte di Delgizzi che è andato oltre la linea di fondo vertice dell'area di rigore Safon punta l'avversario poi va il traversone il colpo di testa la palla prima sul palo e poi tra le braccia di Amoroso Valente si fa rubare il pallone poi nel tentativo di recuperare su Scarpari commette fallo e qui addirittura c'è l'espulsione per Valente Poi lo scavino a servire di Rocco prova di Rocco con la propria iniziativa personale cerca di infilarsi tra le maglie ancora di Rocco che va al tiro intraprendente l'azione da parte del numero 11 proprio sul finale di gara 49esimo minuto di gioco intanto scoccato in questo momento e vedremo se l'arbitro farà entrare nel quinto il pallone che sfila oltre il fondo ma soprattutto il triplice fischio da parte del direttore di gara quindi sul mona zero Fossa Cesia 2 i gol al 14esimo e al 18esimo minuto